Seguimi, oggi ti porto in questo quadrilocale davvero perfetto a livello di finiture in questo stabile del 2017 in classe A+. L'appartamento è praticamente mai stato abitato con una perfezione di materiali ed impianti davvero invidiabile. Partiamo da questo grande salone affacciato con tre porte e finestre su due grandi terrazzi esposti a sud-est. Qui dove siamo? In una delle cabana del Beverly Hills Hotel Riconosci la carta da parato di Martinique? No, siamo nella zona cucina-pranzo Cucina a lube, doppio forno, macchina per caffè e tutte le bevande della terra Cantinetta dei vini, piano a induzione Io credo che qui ci abbiano cucinato forse una volta e mezza I terrazzini in questa casa sono quattro Il primo, il secondo e gli altri due in zona notte Abbiamo tripli vetri, perfetto isolamento acustico e termico Qua mi sciallo, mi guardo la mia tv Abbiamo l'impianto di filodiffusione Gestione delle temperature Illuminazione Personalizzazione degli scenari Telecamere Abbiamo la visione degli spazi esterni E qui la musica divisa per tipo in ogni stanza Porte pantografate Collaccate a vorio che sono una sciccheria Il lusso di avere la camera principale Con un proprio terrazzino Loggiato, affacciato sul giardino condominiale interno e silenzioso Qui puoi passare delle ore tranquillo, nel verde e nel silenzio Il bagno Grande lavandino Rivestito da questo grass effetto seta Cabina doccia Oversize Sanitari sospesi Sava Sandir Qui abbiamo la prima delle seconde camere Attualmente utilizzata come cabina armadio Con un suo terrazzino Zona lavanderia attrezzata Camera Affacciata sul terrazzino sul giardino interno Anche questa attualmente utilizzata come cabina armadio Bagno a suite Con vasca Idromassaggio Sanitari sospesi Porta finestra Ti ho portato in via Mola Quartiere Portello In questo appartamento ready to live Di 136 metri quadrati Abbiamo un salone doppio Quattro terrazzini Una cucina all'americana Lube Praticamente mai usata Tre camere Due bagni di cui uno suite La lavanderia Una cantina Un box Che non è doppio ma non è nemmeno singolo Uno e mezzo Per tutto questo la richiesta è davvero perfetta 670.000 euro Comprensiva di box E di tutti gli arredi E gli elettrodomestici Che hai visto durante la visita Quattro terrazzini Quattro terrazzini